Ciao a tutti e benvenuti. Oggi voglio condividere con voi dei numeri scioccanti che ovviamente sono semplicemente il frutto di menti cospirazionissi insomma, ok? Quindi prendete il tutto come delle balle, delle leggende metropolitane e chi più ne ha più ne metta. E leggete tra le righe, chi mi conosce sa come invertire il discorso. Qui c'è un articolo che mi fa venire i brividi e se fosse vero, beh, veramente è grave. Ma non è vero, giusto? No. Il titolo non lo posso nemmeno leggere, vi lascerò il link giù nella info, così potrete anche voi condividere, ricondividere questo link se volete comunque condividere il mio video. Insomma, ragazzi, io sono una persona che dopo un po' si stanca facilmente, nel senso che a stare qui sempre a ripetere se vi va condividete, se vi va venite sul mio secondo canale, anche no. Insomma, fate quello che volete. Non mi interessa, fate quello che volete. Comunque, 40.000 dollari ogni 100 pollicini, a cui vengono, igne, delle cose che molto spesso portano anche alla dipartita. Allora, da molti anni, chi lavora, diciamo così, nell'ambiente sanitario, qui si parla di medici, queste leggende metropolitane parlano di medici, poi comunque noi sappiamo benissimo, adesso sono seria un attimo, che in questi ambienti ci sono sì persone che non sanno fare il loro lavoro, e io vi ho portato anche la testimonianza di quello che è accaduto a mio padre per un errore medico, cioè poi un calvario, ok? Quindi ci sono medici che non sanno fare il loro lavoro. Non credo di dire un'eresia, semplicemente la verità, come ci sono anche insegnanti che non sanno fare gli insegnanti e che magari vanno, che ne so, a scuola per sfogare la loro rabbia su figli che non sono i loro. Ci sono scienziati che non sanno fare gli scienziati e quindi vanno a braccetto con la corruzione. La stessa cosa ai medici, non è che tutti i medici sono competenti, eh? Quante volte abbiamo sentito a letto di medici che sono stati allontanati oppure di medici che hanno combinato il macello ma che sono ancora a lavorare in determinate strutture. Insomma, fa parte del sistema tenerseli, giusto? Quindi, non sto dicendo un'eresia. È la verità. Non è che tutti sanno fare il loro lavoro, no. Anche perché c'è una percentuale da far girare la testa quando si parla di morti collegate proprio all'incompetenza. Non sto dicendo nulla di nuovo, quindi. Qui però si parla di questi medici che ricevono dei bonus nel momento in cui decidono di aderire a dei protocolli di terapie farmacolo. Che cosa significa? Che se per esempio tu hai un tot di pazienti, aderisci ad una di queste terapie, ok? Sapete anche molto spesso quando vanno i rappresentanti dei medici per pubblicizzare dei farmaci. Quindi, se tu, esempio, hai un tot di pazienti e questi pazienti decidono, un altro esempio, di farsi le imie, tu, un medico, per aver spinto i tuoi pazienti a fare una determinata cosa, e ricevi un compenso. Quindi, qui si parla, secondo queste leggende metropolitane, di cose che fanno male, di cose che sono pericolose, come un po' gli antidepressi. Ma di questo io vi parlerò, io vi parlerò proprio nel dettaglio, farò anche i nomi di alcuni antidepressi, nella serie che sto portando sulla piattaforma numero 6, perché ovviamente qui è meglio non parlare di determinate cose, non si può, e andrò proprio nel profondo. Quindi, ragazzi, ci sono, diciamo, dei farmaci, anche qui non credo di dire nulla di... voglio dire di nuovo, che creano ovviamente dipendenza, no? E infatti anche nelle pubblicità, quando c'è la vocina che verso la fine dice di fare molta attenzione e di non assumere comunque quelle pilole, quando non se ne ha bisogno. Quindi, ovvio che creano dipendenza, tutto quanto crea dipendenza. Anche guardare la tv crea dipendenza, il cellulare crea dipendenza, il fumo crea dipendenza. Quindi, queste compagnie assicurative, che cosa accade? Che, scusatemi per la ripetizione del quindi, pagano i medici per andare a... i loro pazienti. Questo programma di incentivi per la... dei pollicini può essere trovato in questo libretto. Vabbè, l'articolo andatelo a leggere voi. Io voglio semplicemente soffermarmi su un punto chiaro. Penso l'abbiate capito. Su questo libretto, che è appunto un libretto per i medici, si specifica che ogni paziente di età inferiore ai due anni, che riceve le 24 attualmente prescritte, vale un compenso di 400 dollari per quel medico che ha spinto i suoi a farlo. Per ulteriore motivazione, vengono anche pagati e devono una certa percentuale del totale dei pazienti, altrimenti comunque non ricevono nulla. Questa è la frase chiave. Quindi, un medico in questo caso deve spingere a il 63% dei propri pazienti per potersi qualificare. Qualificare a cosa? A prendere questi. Qui si parla dei pediatri americani, no? Che hanno circa 1500 pazienti e per essere dovrebbero averne 945 completamente a 40.000 per ogni 100, questo equivale a 360.000 dollari. Questo è il motivo, secondo queste leggende metropolitane, non vedete che rido, ma figuriamoci se adesso i medici fanno una cosa del genere. No, non ci sto. Però anche qui mi va di precisare perché ci sono veramente tantissimi medici che sono carinissimi e che davvero ti consigliano di fare la scelta giusta. non sono tutti quanti così. Questo è il motivo per cui la maggior parte dei pediatri non fornisce una vera e propria assistenza alle famiglie che non si sottomettono completamente all'ultimo protocollo del programma infantile, di infantile. Stiamo parlando di oltre un quarto di milione di dollari, ovvero più dello stipendio anno medio di un pediatra. La ricerca mostra che il rischio di volare in paradiso, diciamo così, aumenta di oltre il 5.000 per cento quando riceve questi programmi e i medici qui l'articolo ci dice che stanno iniziando ad utilizzare la realtà virtuale per aiutarli a somministrare queste cose, voi sapete, eccetera, eccetera. Ora, qui si parla di una cosa che veramente dovrebbe farci riflettere. Allora, innanzitutto si parla di programmi in cui i medici aderiscono, ovviamente questi medici. E che cosa succede? Loro, ovviamente voi sapete che i medici per il lavoro che fanno ricevono uno stipendio, tutte le persone che lavorano ricevono uno stipendio, è solo che per quanto riguarda gli stipendi molte persone non vengono ricompensate come dovrebbero. Ma vabbè, e ci sono anche persone che ricevono lo stipendio per aver rovinato la vita ad altre persone. Ma vabbè, viviamo in questo mondo del resto, quindi che cavolo ti puoi aspettare Sara, no? Ma qui si sta parlando di programmi a cui prendono parte e se riescono a spingere, qui non si sta parlando, io lo so che adulti, pollicini, sono sempre esseri viventi, esseri che meritano tutto il rispetto del mondo. Se una cosa la fai su un adulto, già il tutto mi fa schifo, profondamente schifo, ma se tu quella determinata cosa la fai su un pollicino, se tu non guardi nemmeno in faccia i pollicini e guardi semplicemente le tue tasche piene, a me ragazzi questo mi fa schifo. E qui c'è scritto questo, loro aderiscono a questi programmi, alcuni, spingono magari le famiglie di questi pollici a ok, e poi in base alla percentuale di pazienti pollicini che hanno fatto, loro ricevono un compenso come per dire bravo, bravo, hai spinto le pecorelle nel recinto. In questo caso però le pecorelle ci tengo a precisare non sono i pollici che sono piccoli che cosa capiscono, i genitori sono le pecorelle. bravo, hai spinto le pecorelle nel recinto. Non se ne fregano niente del fatto che quel pollici potrebbe essere, potrebbe sentirsi male a lungo andare. Perché non è che le cose che il sistema propone secondo le leggende metropolitane sempre io non ci credo, lo sapete che io mi fido di tutte le organizzazioni e istituzioni di questo sistema io mi fido. Però non è che se tu cominci ad utilizzare una cosa o ad assumere un farmaco gli effetti collaterali li vedi il giorno dopo. No, li puoi pure vedere dieci anni dopo. Quindi di che cosa stiamo parlando? Ho voluto condividere questo articolo perché le persone devono cominciare a ragionare su come funziona il sistema. Voi dovete cominciare a ragionare su come funziona il sistema e sulle scelte che soprattutto come genitori siete portati a fare. perché lasciando da parte gli obblighi che purtroppo mi rendo conto ci sono molti che ormai si devono necessariamente fare ma a parte quello le altre proposte o magari vedere che il proprio figlio la propria figlia hanno un problema se li mandiamo dallo psicoterapeuta tanto gli prescriverà questo, questo e questo e insomma il bambino sarà tranquillo no per me questa non è la soluzione quindi nel momento in cui una persona vi spinge a fare una determinata cosa o ad assumere determinate compresse lo fa anche per questo perché andandovi a consigliare un determinato pacco pacchetto e non un altro si arricchisce perché la maggior parte dei pazienti è andata comunque no ad aderire a quella determinata cosa e quindi come ringraziamento poi al medico gli arrivano i folli che a volte questa è la cosa che superano di gran lunga i loro stipendi quindi si tratta di soldoni non soldi soldoni per aver fatto cosa fondamentalmente per aver compromesso dei pocci che potevano anche essere i loro figli ma loro non se ne fregano niente dei figli degli altri questo è un fatto risaputo vi chiedo di condividere questi link perché è molto importante io vi dico sempre di condividere i link poi deve partire da voi se farlo o no però io ragazzi vedo a fronte di tutte queste cose che poi a volte io leggo pure sotto i miei video e lo sapevo io lo so già lo sapete già però alla fine siamo sempre quei 10 quei 20 quei 30 a saperlo le notizie bisogna diffonderle poi è ovvio che ci sono pure asinelli con i paraocchi che anche se vai a sbattere loro in faccia alla verità comunque non si curano di accettarla perché per loro insomma vivono nel mondo delle fiabe sono completamente ormai collegati al sistema e vabbè ma per tanti altri magari c'è ancora speranza quindi bisogna provare almeno tentare però se l'evidenza non viene condivisa ragazzi non so più che cosa dirvi io vi saluto qui ci vediamo alla prossima voi intanto fatemi sapere che cosa ne pensate un bacione un abbraccio grazie a tutti